Per cui stiamo partendo, non abbiamo dato i tempi, ma comunque abbiamo la volontà di tutti gli operatori che sono qui a far sì che l'aeroporto funzioni. L'aeroporto di Fano verso il futuro. Questa mattina il sindaco Seri e l'amministratore della Fano Infortune Ruggeri hanno tenuto una conferenza stampa nella sala convegni dell'aeroporto Enzo e Walter Umiccioli per rappresentare il nuovo piano di sviluppo aeroportuale, un progetto condiviso con tutti gli operatori e che tiene conto della rivoluzione della viabilità della zona con le opere compensative dell'autostrada e le nuove strutture che verranno realizzate dal comune come la nuova piscina. Le tematiche che abbiamo pensato di puntare sull'esiluppo sono l'implementazione dei voli, per cui riteniamo che se più voli vengono a livello turistico, business, e via dicendo più l'aeroporto potrà, l'aeroporto non solo l'aeroporto, anche tutto il territorio potrà avere dei vantaggi su quello che sono le persone che arrivano, per cui persone che arrivano vuol dire hotel che si riempiono, vuol dire ristoranti che si riempiono, è soprattutto un indotto che comunque funziona. Secondo punto è l'implementazione della scuola di volo perché nel futuro serviranno parecchi piloti nuovi per le linee aeree, per cui è importante formare delle persone nuove. Un altro punto, puntiamo sul sociale, sui disabili, per cui abbiamo pensato, e questo sarà oggetto di un'altra conferenza stampa, di poter dare la possibilità a persone meno fortunate di poter andare in volo, poter lanciarsi col pari caduti, fare altre attività che diversamente non riescirebbero a fare. E puntiamo, abbiamo creato anche un logo, presenteremo poi anche questo, che si chiama Paradrenalina, che permetterà a queste persone di poter fare queste attività. Fondamentali saranno le iniziative promozionali e gli eventi che renderanno l'aeroporto sempre più conosciuto, ma si stanno progettando anche delle soluzioni ecologiche per favorire la mobilità di chi arriverà in aereo e che potrebbe poi muoversi con bici o a bordo di auto elettriche. Infine verrà realizzato un punto vendita di prodotti locali a disposizione dei turisti in arrivo. C'è tutta una serie di attività che la valorizzano e stanno rendendo l'aeroporto di Fano sempre più punto di riferimento per le sue caratteristiche, per la sua tipologia, penso sia l'aerosuperficie più stimata e più quotata in Italia. E lo dimostrano anche i vari giudizi che vengono espressi in modo spontaneo anche nei canali social. Quindi questa è una situazione, ma soprattutto il merito di tutti coloro che operano all'interno della struttura. E l'amministrazione, devo dire, ha fatto un ruolo importante per creare la squadra e per dare le giuste coordinate sulle prospettive e sullo sviluppo.